La notatrice e conduttrice Ambrangiolini decide di trascorre l'intera notte proprio assieme ad un collega del suo storico ex Francesco Renga. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente. Ambrangiolini ed il collega di Renga Letto Quotidiano. It. La nota conduttrice continua a far parlare di sé per via di alcuni dettagli che non sono passati affatto inosservati. Come bene saprete negli ultimi mesi la famosissima conduttrice non ha attraversato un periodo particolarmente soddisfacente e sereno dal momento che ha dovuto affrontare la separazione dal noto allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Sono molte appunto le voci che riguardano proprio il loro allontanamento. Si parla appunto di uno o più tradimenti dell'allenatore nei confronti della notatrice. Ovviamente questo l'ha colpita profondamente ed ha influenzato incredibile le sue giornate ed ovviamente la sua vita privata. Successivamente la separazione ha tentato in ogni modo di prendere nuovamente in mano le redini della sua vita ed ha iniziato a pensare solo ed esclusivamente alla sua vita lavorativa. Attualmente appunto la vediamo impegnata in diversi progetti che spera di realizzare il prima possibile. Ambrangiolini letto quotidiano.it nelle ultime ore però un dettaglio in particolare ha attirato incredibilmente l'attenzione del pubblico poiché la donna si è ritrovata a dover trascorrere la notte proprio assieme ad un noto collega del suo storico ex Francesco Renga. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è successo davvero e soprattutto di chi si tratta. Ambrangiolini passa la notte assieme al noto collega dell'ex Francesco Renga ecco di chi si tratta e cosa è successo tra loro come vi abbiamo già detto nell'ultimo periodo la donna si è concentrata principalmente sul suo lavoro e per questo non sono trapelate molte notizie riguardo la sua vita sentimentale. Nelle scorse ore appunto la famosa attrice conduttrice si è ritrovata in una situazione particolare. Come vi abbiamo dette lei è un volto famoso in diversi ambiti nel mondo dello spettacolo, del cinema e molto altro. Per questo motivo infatti viene considerata un artista a tutti gli effetti. Attualmente si ritrova a ricoprire un ruolo fondamentale per uno dei programmi più seguiti da tutti gli italiani. Siede appunto al fianco di alcuni degli artisti musicali più seguiti con lo scopo di sedere al posto della giuria di X Factor Italia. Ambrangiolini e Fedez Letto Quotidiano.it nelle scorse ore appunto, assieme ad un suo attuale collega, nonché collega perfino del suo storico ex Francesco Renga, si è ritrovata a fare le ore piccole poiché il suo compito all'intento dello studio non era ancora giunto al termine. Lei, assieme a Fedez, come si può ben vedere dall'immagine sopra inserita, con al fianco d'Argent Amico e Erre Comi hanno lavorato fino a tarda notte.